Si è creato un intonaco civile con una grana da 0,6 mm e si parte la stisura del grassello. Si applica la prima mano, come vedete anche questo grassello è bello pastoso, ma credo sia una tinta forte non ha nessun problema di diventare liquido o di cadere. Non voglio vedere i segreti. Finita la prima mano, si lascia asciugare perfettamente, sempre la prima mano della calza e della cera asciutta, essiccata, perfetta. Si procede alla stisura della seconda mano. Perchè il materiale non si perde. Questa è la seconda mano a finire. Si può caricare anche materiale, malgrado sia fino, non crepa e non spela. Lasciate un po' essiccare la seconda mano, si va a lucidare con la mano finale. Ecco, si carica materiale, la seconda mano non è perfettamente asciutta in modo che vada a incorporarsi la seconda con l'ultima mano finale. Perchè già si lucida perchè si vede il riflesso. E adesso si va a lucidare con la mano finale, senza materiale, si va a impaccarlo in modo da lucidarlo. E questo è il risultato finale. Per averlo amato si vede l'ombra della persona, questa è la mano e il riflesso che fa. E questo è il risultato finale della calcia. Perchè? 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 Perchè?